signore sia con voi preghiamo assisti e benedici signore la famiglia dell'arma che oggi inaugura questa caserma fa che quanti sono fra le sue mura in ogni circostanza trovino in te il loro rifugio quando escono per il servizio i loro compagni quando rientrano il loro ospite ed amico per cristo nostro signore santa maria vergine fedele prega la madrina della cerimonia signora lucia famiglia vedova del carabiniere di medaglia d'oro al merito civile alla memoria accompagnata dal comandante della legione dal sindaco di coro procederà al taglio del grazie